Tre progetti di riqualificazione per tre parchi cittadini, Parco Arno, Parco Ducci e Parco del Foro Boario. Gli ha presentati il vice sindaco Gamurrini che ha tenuto a spiegare qual è la logica di questi interventi, aree più confortevoli e sicure e valorizzazione dei loro aspetti ambientali. Al Parco Arno è prevista la sostituzione di 46 apparecchi illuminanti con quelli di nuova generazione, con tecnologia LED, l'ampiamento del sistema di videosorveglianza con installazione di quattro nuove telecamere collegate all'infrastruttura comunale, così da garantire una visione diretta presso il comando della Polizia Municipale, nonché questure ai carabinieri, il rifacimento del camminamento interno, ma anche la sistemazione del fondo del campo da basket, del campo da pallavolo e la demolizione della pista da pattinaggio. Al Parco Ducci sono previste la sostituzione di 207 punti luce su palo, di quattro riflettori nell'area gazebo e di otto punti luce a pavimento con quelli di nuova generazione, con tecnologia LED, l'ampiamento della videosorveglianza con sette nuove telecamere collegate all'infrastruttura comunale, sempre per garantire una visione diretta presso il comando della Polizia Municipale, la manutenzione straordinaria dei servizi igienici e l'installazione e manutenzione dell'arredo delle attrezzature ludiche. Al Foro Boario sono previste la sostituzione di 48 punti luce su palo e due riflettori con altrettanti a tecnologia LED, l'ampliamento della videosorveglianza, anche qui con sette nuove telecamere, il rifacimento delle strutture che insistono all'interno del parco e l'installazione di nuovi giochi a redi a servizio dei bambini e dei cittadini.